fermati è mio iniziamo aia ehi lasciate un cuore ed è vostro guarda è lei non è così che volevo diventare virale sfigata aia ecco lascia che ti aiuti ma fa sul serio grazie verresti al cinema con me certo chiamami non posso crederci ci vediamo domani certo mamma devo fermarla sarò zitta oh mi sta invitando a una festa una scatola di bellezza eh e ora dov'è il mio rossetto tenere la scatola così in alto non mi fermerà presa dammi qua non è un giocattolo ed è solo mia ma forse posso condividere facciamo così se farai tutte queste faccende allora potrei giocare con la mia scatola ci sto si crede forse che non riuscirò a finirle tutte beh si sbaglia di grosso c'è altro che devo fare ho finito la tua stupida lista perfetto ecco la scatola finalmente cavoli adesso posso giocare con i trucchi aspetta un attimo è uno scherzo ups sei così crudele dunque dov'ero? adoro questo colore e piacerà anche a lui mi aiuti con l'algebra no quella piccola mocciosa non mi dà pace riesce ad arrivare ovunque aiutami starò solo sognando forza mi serve una mano penso di essermene liberata mi aiuti con l'algebra no ciao sorellina mi lasci stare? certo cosa sta succedendo? chi è? ora basta chiamo la mamma ho detto basta questa lampa adesso aspetta vabbè è meglio che mi prepari non vedo l'ora di indossare il mio vestito nuovo ballerò tutta la notte con la mia cotta ovviamente giuro che prima era molto diversa oh no il mio vestito oh guarda mi sto ballando con la mia cotta nooo ridammelo troppo lenta oh no l'hai rovinato stai piangendo per un vestito ops ehi ecco l'ho sistemato smettila di piangere ok? oh ma grazie wow è meraviglioso di nulla volevo dire beh che bambina strana è ora di darmi una bella sistemata questi baffi devono andare ma cos'è successo? chi ha usato il mio rasoio? che schifo il mio gallo e il mio gattino Sydney! beh non starai esagerando ho solo voluto dargli una nuova acconciatura quella monellina le strisce depilatorie della mamma non credo che le dispiacerasse ne prendo una che diavolo? vabbè e adesso? quanti peli? beh è ora di toglierli tutti uno due tre che male ma ho fatto eh sì ops oddio sono così lunghi ci potrei fare le trecce devo toglierli quasi fatto sono spariti? pensavo di non riuscirci ciao sorellina è qui ciao pensavo mi avrebbe fatto un altro scherzo capelli ricci siano ma dai fammi riprovare ti aiuterò io ma che fai? ehi smettila non sei divertente voglio solo giocare ehi mi serve intendi questa? prima chiedimelo in modo gentile non credo proprio i miei capelli vanno a fuoco sei proprio una sfigata forse questo aiuterà metterò una manciata nei miei capelli per favore per favore fa che funzioni non posso uscire con la mia cotta conciata così è incastrata no è colla cretina stai scherzando ma tu piccolo diavoletto ci caschi sempre molto divertente io mi sto divertendo un mondo accidenti sto malissimo santo cielo non può essere oh molto meglio caspita guarda dietro cos'hanno? beh nulla di buono oh no non preoccuparti posso sistemarli hai finito dai un'occhiata cavoli sono così belli cosa? sono qui chi è? oh ciao ciao adoro quello che hai fatto con questo posto è così accogliente piedi giù dal tavolo ti piace comandare? io sono pronta lo vuoi? prendilo ecco te lo prendo io ci penso io a lui ciao bella piedi giù dal tavolo o ancora meglio esci subito da casa mia wow e non tornare è andato via sì e non tornerà beh grazie ho fame chi l'ha messo lì? oh bella attenta sta arrivando ah ah chi se ne frega della colazione oh scusa quindi è per questo che è uguale a 56 ehi molto meglio allora ragazzi chi vuole risolvere questa equazione? qualcun altro? e tu mia? io puoi risolverlo se vuoi oh sì grazie oh mio Dio cosa stai facendo bella? il servizio fotografico è oggi il prossimo per favore devo prepararmi andiamo comunque ballandiamo sbrigati un bel sorriso sì sì venite tutti per la foto di gruppo le foto sono orrende almeno ci sono nella foto sì che cosa? cosa sta succedendo? diamo un'occhiata oh io non riesco a vedere deve esserci un altro modo grazie dove sono andati tutti quanti? oh un concorso di bellezza oh no un metro e settanta non preoccuparti qualcosa faremo andiamo è ora di prepararsi sarà il vestito più bello l'ultimo tocco sono pronta per ordinare abito rosa dei miei sogni quale vestito dovrei scegliere oh wow è lui come sono veloci come sono veloci oh wow oh no è troppo lungo è troppo lungo questo andrà bene questo andrà bene ha funzionato ok grazie a buona fortuna grazie la prossima io io sì ho detto la prossima la mia testa dio mio Oh, salve! Oh, chi ha portato questa ragazzina? Oh, non sono una ragazzina! Voglio partecipare a questo concorso! Tesoro, sei troppo bassa! Prossima! Ma, ma... Solo un metro e settanta, nessun problema! Non così fretta, signorina! Che cosa? Mi dispiace, tesoro, sei troppo alta! Troppo alta? Non è giusto! Perché? Stai bene? Perché sono così bassa? Perché sono così alta? Ragazzi, la notte di paura è stasera! Non siate timidi! Venite tutti! Non potete perdere queste occasioni! Un film! Questo ti tirerà su di morale! Ok! Puoi passare! Siamo entrate! Ehi! Sì! Puoi uscire! Buona visione! Puoi toglierti il cappello! Non riesco a vedere! Ma sul serio? Sto scomoda! Molto meglio! Possiamo scambiarci di posto! Sì, per favore! Ne vuoi un po'? È solo un film! Non mi piacciono i film dell'orrore! Andiamo a vedere qualcos'altro! Certo! Ho dimenticato di dare da baggiare al pesce! Ma perché? Non dargli retta! Concorsa di bellezza per tutte le altezze! Questo è ciò che ci serve! Oh, sì! Sei pronta? Sì! Uno, due, tre! Non mi piacciono i filmi! E' meglio che vada a dormire! Buonanotte, bella! Buonanotte! Questo divano è troppo piccolo per me! Molto meglio! Oh! Il mio telefono! Vinceremo noi! E adesso le nostre penaliste! Venite sul palco le dis! Facciamo! Facciamo! Bella! Mia! Abbiamo le vincitrici! Riesci a crederci, bella! No, non ci riesco! Siamo le vincitrici! Sì! Sapete una cosa, ragazzi? Sono la miglior giudice! Ma stanno vincendo tutti! Oh, siamo tutti vincitori! Sono tutti belli e unici a modo loro! A modo loro! Vincerò questo per te, mamma! Cosa mi metto oggi? Questo o quello? Questo! Sarà mio! Questo qui è mio! Sue! Sue! Miau! Ehi, Sue! Sei proprio piccoletta, ma come sei carina! Oh, ma stai facendo stalking a Rob, è carino, non è vero? No, non è così! Lui non è affatto carino! Sei così carina quando sei arrabbiata? Io non sono carina! Mi passi la palla, per favore? Vuoi la tua palla? Ti faccio vedere io! Sono troppo piccoli! Come faccio a ballare con questi? Oh! 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 Sue! Sue! Torna alla realtà! Come puoi essere una brava ballerina se non riesci nemmeno a camminare? Devi crescere! Ehi, Sue! Sei così carina quando ti arrabbi! Non sono carina! Credo che dovrò usare questa di auto! Ehi, Sue! Ma chi ha messo il mio bicchiere lì? Ho paura! È troppo in alto? Oh! Che diavolo! Vorrei avere i capelli corti! Sei sicura? I miei capelli sono così fighi adesso! Sì, me lo ha detto! Che cosa? Prendi del cibo! Grande! Piacere di vederti! Anche io! Oh, piccola! Vuoi del gelato? Certo! Ok! È così caldo qui! Oh no! Ecco! Grazie! Sì! Capelli stupidi! Ah, questo è tuo! Toglietevi di mezzo! Sul serio? Oh! Oh! Ora basta! Nooo! No! Non farlo! Oh! Piuttosto andiamo al concorso di bellezza! Allora dobbiamo rimetterci in forma! Aia! Sei seduta sui miei capelli! Anche tu! Strano! Mettiamoci in forma! Sì! Aspettami! Ah? Aia! Mio Dio! Ma è così ingiusto! Ivy! Guarda i miei bicipiti! Ah! Che cosa? Oh! Poverina! Ecco! Legati i capelli! Grazie! Oh! Di nuovo! Oh! Prova questo! Oh! Sei così di tendenza! Possiamo farcela! Vinciamo, ragazza! Oh! Sono così affamata dopo lo sport! Oh! Fermati! Ho una zeppa dietetica! Ma di chi sono questi capelli? Non i miei! Cosa farai? Questo! È davvero buonissimo! Te l'avevo detto! È troppo presto! Ma ho abbastanza tempo per sistemarmi! Anna! Non hai ancora finito! Anna! Non hai ancora finito! Anna! Ancora! Ancora! Oh! 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 Penso sia abbastanza! Ah! Cinque minuti e sono pronta! Ai, ai, i miei capelli! No! Stupido asciugacapelli! No! Ai, 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 ai! I miei capelli! Vincerò di sicuro con questa acconciatura! Aspetta, cosa? Anna? Aiuto! Ai, di nuovo! Faccio io! Divertiamoci! Non ti preoccupare, era solo uno scherzo! Guarda! Non qui! Anna, hai visto i miei airpods? La prossima volta controlla nei tuoi capelli! Oh, grazie! Gustoso! I nostri capelli sono stupendi! Sì, stasera andremo alla grande! Tuxi! Tuxi! Oh no! Stai bene? Sì! Ragazzi, andate al concorso? Sì! Facciamolo, ragazza! Facciamolo! Wow! Ma perché sono così belle? Anna? Dove sei? Assolutamente stupendo! Cinque su cinque! Wow! Anna? Anna? Andiamo a casa, su! Non sono Anna! Oh, paura! Non sei ancora pronta? Adesso non ci vado di sicuro là sopra! Niente panico! Sistema il tutto! Vai, ragazza! Ci sei! Disgustoso! Come usate? Non è giusto! Che cosa? Andiamo, ce n'è da qui! Sì! I concorsi sono troppo stupidi! Sì! Siamo belle così come siamo! Balliamo! Sì! È fuori! Ivy, prendi questo! Wow! Wow! Vieni da me, da me! Ehi, ragazza! Fa sempre colpo con i suoi capelli lunghi! È qui che fa caldo! Oppure sei tu? Sono così stanca di questi capelli! Li avrei dovuti tagliare! Tesoro, ti posso aiutare io? Interessante! Ok, andiamo! Ehi! Ma dov'è? Ti sto aspettando! Ciao, cara! Sapevo che saresti venuta! Siediti! Fai un respiro profondo! Oh, il mio tesoro! Bene, bene! Per i tuoi capelli! Scegli una nuova acconciatura! Non questa! Oh, questa! Questa? Ottima scelta! Oh, va bene! Tieni! Ah, ti faremo bella! Sì! Oh, mio Dio! Sono così belli! Grazie! Ciao, cara! Sapevo che saresti venuta! Pete! Voglio essere una sirena! Fammi vedere! No? 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 Come no? Assolutamente no! Yuhuu! Eccoti! Wow! Sono bellissima! Oh, grazie! Grazie mille! Oh! Wow! Sei così chic! Guarda il mio taglio di capelli! Sei favolosa! Oh! Aspetta un attimo! Ma sono i miei capelli? Che cosa? Ah! Imparate! Imparate! È così che si fa! È quello che penso! Addio! Nessuno vuole essere mio amico! Non avrò mai un amico del cuore! Addio! Aspetta! Non permettere a nessuno di trattarti come spazzatura! Hai visto giorni migliori, eh? Tu sarai la mia migliore amica! Questa gamba è tua? Adesso te la giusto! Oh! Che succede? Grande! E ora? Il brufolo! Oh! È enorme! Il primo è fatto! Oh, no! Sto bus! Non negli occhi! Sei tutta rossa! Rossa! So cosa fare! Vediamo un po'? No! Sì! Ecco la ricetta! Ok! Cominciamo! Per prima cosa mi serve il glitter! Fatto! Avrò anche bisogno di questo frullatore! Ma cosa ti serve quello? Aggiungiamo il glitter! Più ce ne sarà, meglio verrà! Che bello! E adesso? Oh! Ecco la ricetta! Aspetta! Ci vanno anche degli insetti! E uno slime! Davvero! Oh, no! Scarafacci! Oh, no! Uno sta scappando! Aggiungerò anche queste patatine! E ora la slime! Che figo! E accendiamo! Oh! È potentissimo! Oh, wow! Credo che la tua maschera sia pronta! La tua pelle sarà fantastica! Non ne sono tanto sicura! Adesso posso toglierla! Wow! Il tuo viso è bellissimo! Oh, sì! Fantastico! È l'ora del bagnetto! Non voglio sporcare queste teste! Nascondetevi nella mia tasca! È ora di sporcarsi un po' le mani! Come rilassante! Ora immergiti! Ecco! Ehi! Com'è divertente! Non me l'aspettavo! È ora di strofinare! Che bella sensazione! Ehi! Facci piano! Devo farti anche sotto le ascelle! Una bella esfoliazione è quello che ti ci vuole! Devo eliminare tutta la pelle morta! Quasi fatto! Eh? Ora sei pulita! Oh? Ma i tuoi capelli fanno schifo! Wow! Ehi! Ci tengo tanto a non perderli! Bene! Ora cambiamo il colore dei tuoi capelli! Devo infilarti qui! Cosa diavolo mi stai facendo? Aggiungiamo un po' di verde! Ok! Così fatto! Ta-da! Oh! Non mi piace! Questa volta aggiungiamo del blu! Oh! Troppo scuro! Togliamolo! E adesso? I tuoi capelli! Oh! Oh! I miei capelli! Oh no! Ho un'idea! Forza! Ti farò dei capelli nuovi! Vediamo! Qui ci sono un sacco di filati! Sì! Mi piace! Ora resta immobile! Per essere belle bisogna soffrire! Bene! Ma voglio aggiungere un po' di rosa! Con i capelli rosa sembrerai una vera principessa! Ecco! Troviamoti dei vestiti nuovi! Sei pronta? C'è un'ampia scelta! E ci sono anche tanti accessori per completare il tuo look! Che ne dici di questi? Ti aiuterò io! Voilà! Sei così bella! Ma ho ancora un problema da risolvere! Vorrei avere un'amica come te! Che succede? È un terremoto! Come è stato? Barbie? Ora basta! Sarò tua amica! Ho una nuova amica! Wow! Sei così bella! Aiuto! Vorrei essere come te! Ti aiuterò io! Tutto ciò che ci serve è in questa scatola di bellezza! Ci sono tanti trucchi, smalti e tutto il necessario per diventare come me! Ma da dove dovrei cominciare? Non la so! Beh, io sì! Dai, denti! Siediti! Ho un'idea! Devo solo mettermi al lavoro! Devo tagliare questo tubetto! E tirare fuori lui! Wow! Ciao, Ken! Ma lui non è il tuo ragazzo! Lo era! Ma l'ho punito perché non si stava comportando bene! Ecco il dentifricio! E adesso apri la bocca! Oh, sì! Sto funzionando! Lo spero! Forza! Dobbiamo togliere tutte le macchie! Quasi! Ecco! Ora sei pronta! Sì! Aspetta un attimo! Dobbiamo fare qualcosa per le tue sopracciglia! Bingo! Vieni qui, tesoro! Resisti! Ok, va bene! Forse questo ti farà meno male! Oh, molto bene! Oh, mi sei pigliato nei capelli! Oh, va tanto male! Il collo mi prude! Riesci a vedere se ho qualcosa! Dobbiamo liberarcene subito! Meno male che ho questo gadget! Ecco, ci sono! Ha funzionato! Ha funzionato! Ma non è ancora finito! Vedo che dovrò pulirlo adesso! Beh, almeno funziona! Sì! La mia pelle è così morbida! Ah! Che succede? Oh! Eeeh! Beh, ci penso io! Devo trovare il gadget adatto! Ed ecco la risposta alle mie preghiere! Un gadget super potente! Per prima cosa, devo toglierla dalla custodia! Ok! Oh! È davvero molto potente! Spero che questo sia il colore giusto! Wow! Ehi, piano piccoletto! Ora datti da fare! Che cos'è questo coso? Uh! È piuttosto rilassante! Sta funzionando? Cerca di non muoverti, ok? Ehi! Ah! Anche sulle palpebre! Tieni gli occhi chiusi! Bene! Ah! Wow! La mia pelle è perfetta! Oh! Un'ultima cosa! Voglio aggiungere un po' di colorito alle tue guance! Sul serio? Ehi! Mi fai il zelletico! Sono così felice! È fatto! Voglio provarci anch'io! Oh! Mmm! Oh! Oh! Accipicchia! Mi piaccio! Mmm! Oh! Ci penso io! Oh! Sì! Ci siamo quasi! Un'altra striscia! E... Un'altra ancora! Oh! Mi sento strana! Presto tutto avrà senso! Ora rimani ferma! Mi sento come un'artista famosa! Devo farti bene gli occhi! Ora posso toglierti il nastro adesivo! Quasi fatto! Pazienza! Ah! Ultimo tocco! Wow! Che figata! Ah! Mancano solo i capelli! Questi non ti servono! Sono così fuori moda! Ma quanti ne hai messi? Santo cielo! Credo fossero lì per un motivo! Sta bene, vero? Credo che forse dovremmo optare per una parrucca! Ehm... Ecco qua! Oh! Forse è troppo blu! Prova questa! Sei sicura? Ah! Lasciamo perdere! Prova questa! Wow! L'adoro! L'ultimo tocco! Indossa questo! Sono così bella! Grazie! Grazie! Beh! Adesso possiamo andare, amica mia! Oh! Quanto sono buone queste fragole! Devo pulirmi le mani! Sì! Ora sono pronta! Devo prima sistemarti i vestiti! Sei sicura di sapere cosa stai facendo? Certo che sì! E' fatto! Oh! Mi piace! Ora va molto meglio! Ok! Cosa stai facendo? Aspetta! Mi sto concentrando! Grande! E ora le fragole! Aha! Ecco! Wow! Eh? Pronta per andare a scuola? Andiamo! Ehi! Ciao mondo! Due amiche insieme contro tutti! Wow! Wow! Sei davvero fantastica! Ehi! Wow! Cosa? Qual è quel tizio? Ehi!